Nella vita abbiamo continuamente bisogno di nutrirci, e non solo di alimenti, ma anche di progetti e affetti, di desideri e speranze. Abbiamo fame di essere amati, ma i complimenti più graditi, i regali più belli e le tecnologie più avanzate non bastano, non ci saziano mai del tutto. L'Eucaristia è un alimento semplice, come il pane, ma è l'unico che sazia, perché non c'è amore più grande. Lì incontriamo Gesù realmente, condividiamo la sua vita, sentiamo il suo amore. Cari fratelli e sorelle, scegliamo questo cibo di vita. Mettiamo al primo posto la Messa, riscopriamo l'adorazione nella nostra comunità. Chiediamo la grazia di essere affamati di Dio, mai sazi di ricevere ciò che Egli prepara per noi. Grazie. Grazie.